l'auto praticamente spiego sto poi un uomo e poi su un bastone di scrivando ma mi ricordo un vecchio indovinello dei posto e girato non ascolta queste qua sono le gambe questa è la sua zona anale questo bastone che sta arrivando per ieri indovinello poi qua c'è tipo il coso di space invaders no quello che spara guarda eh a 6 states non vorrai iniziare il gioco? erba in una città ripeto erba in una città finisce vedrai che il prossimo smash il suo smash finale sarà taglio no graffio yeeeh e now sei livellato centro pokemon con la merda ma poi non era l'ultimo centro pokemon esistente no eeeh hai visto? cosa? rientra nel centro pokemon esci poi? hai visto? cosa? sei uscito dal pokemon market ma che cazzo? corso 20 wow quanta linearità yeeeh cosa? nevica non vedo la neve ci manca solo percorso ghiacciato ehm ehm tante grotte isole sfumarini si vabbè non c'ho che di esplorarle va ma ancora con festa erba fatta qua così in all'arte fuck the police prova a entrare nella zona safari che mi sembra che no no co che? bu? vabbè non c'era scritto che c'era un bug nella zona safari tipo una cosa del genere sogniamo va benvenuto alla zona safari costa 500 vuoi giocare al gioco buono ne ho abbastanza mi dispiace vuoi giocare? userai delle pokeball special eccole alp riceve 30 safari da lui che poi è un'altra cosa che può sembrare una cagata assurda però quando ci sono testi di giugnare bisognerebbe cercare di bilanciarli si ma ho trovato una nocciola ehi da vendere ma è una pepita ah questo qua tradotto nugget con nocciolina si poi ho visto certe cose ah qua c'è 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 yeeeh vai è lo 16 oh più alto del mio beccandi ma qual è il catch rate della safari ball una parola che inizia con A ok della serie il gioco è già abbastanza schifoso rendiamo più schifo di quei nuovi giustamente giusto ancora A no cattura di tutti pur isu pur isu understand what ehi cosa c'è un maximum potion please mh eeeh ancora la beccatura non va passiamo le squadre radia non voglio fare l'allevamento degli annulli I don't know ma dove cazzo sto andando ah aspetta ma qua c'è eh cosa mn03 da questo tizio è surf si peccato che io non abbia ma no dalla mega charizard facciamo un test ma vuoi vedere che secondo me l'ha imparato davvero c'è aspetta guarda i colori delle vai 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 oh my god io sono stronzo gli faccio imparare doppio team mh ah giusto puoi parlare mi cambia anche steed wing no ma vabbè sai com'è non ho pensato di cambiare no no corporea no po' ebre rei e' questa è una vecchia nickname solo che era quello e pure l'ho pulito oh ma che cazzo no mio no ho scappato si in questa che ci sono anche le leggende metropolitane ah quindi mi aspetto di trovare Luxor si soprattutto Luxor vediamo che trovi ma non ci sono i passi ah si ancora la no ho sbagliato eh vabbè lo userai come scimbo fuggi he's watching carefully he's watching you tira dietro le pietre dai tira dietro le pietre vai oh ma cazzo fuggi oh non mi ricordo quali erano gli effetti delle due cose la roccia e roccia e l'esca non l'ho ben capito nemmeno io ma se non sbaglio una aumenta le possibilità che fugga e di catturarlo e l'altra al contrario non mi ricordo vuoi catturarlo ancora? rivederci ok da te ma quello lì cosa dice? quello che non ha detto niente dice cose ok fuggia opere dire di fermiamo po' questa fermiamo po' questa parte e ci rivediamo la prossima volta perché voglio dire come finisce io no 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 no